Ministro, io non sono affatto soddisfatto, mi sembra sia sottovalutato questo aspetto. Le ricordo che c'è un altro indagato, sempre nella provincia di Vicenza, per cesso di legittima difesa e non è ancora stato prosciolto da questa accusa, ed è Graziano Stacchio. Graziano Stacchio è un eroe che ha difeso una commessa asseragliata nel suo negozio e attaccata da quattro rapinatori armati di Kalashnikov. Stacchio l'ha difesa a rischio della propria vita durante la sparatoria che ne è seguita. Lo stesso Stacchio si è reso protagonista di un gesto di grande generosità, donando a Mattielli una parte di quanto era stato lui stesso donato per il sostenimento delle spese processuali in virtù di quanto accaduto. Noi non ci rassegniamo a questa giustizia palesemente ingiusta, dove le vittime diventano i condannati e dove i ladri vengono assolti. Non ci rassegniamo questo mondo all'incontrario, continueremo la nostra battaglia perché questo non è il mondo che vogliamo, questa non è la giustizia che vogliamo. Grazie!